Antonino, tu lavori in cooperativa da tanti anni, c'è una storia particolare. Oggi nella visita guidata che c'è stata in occasione dell'Emilia Romagna Open abbiamo ospitato cittadini, famiglie, in cooperativa diverse persone a cui anche te hai raccontato un po' come è stata la tua esperienza e un po' la storia della cooperativa. Come ti sembra che sia andata? Sì, è stato bello e emozionante soprattutto, anche ricordare tutti gli anni passati in questa azienda è stato veramente emozionante questo incontro di qua soprattutto anche con gente nuova, diciamo che non conoscevo più che altro e mi ha reso felice. Come coinvolgere i propri familiari nel proprio lavoro, nella propria professione? Bello, bello, soddisfacente soprattutto per il mio piccolino io ne ho quattro di figli e allora hanno fatto perché lui è difficile che si fa le foto e oggi è stata una cosa stupefacente perché ha voluto che farsi una foto nella spazzatrice ne sono contento, contentissimo.